Musica Saranno due depuratori di vallata per il Tiguglio orientale, uno a Chiavari e uno a Sestre Levante. La decisione del lato è ratificata oggi dal Consiglio metropolitano, chiesti tempi rapidi per la progettazione. Debutto a Sestre Levante per Swiss and Europe, sono arrivati 60 operatori turistici italiani e 35 stranieri per proporre e conoscere l'offerta turistica del territorio. Sei mesi fa l'inizio del terremoto in Italia centrale, sono trascorsi anche 130 anni da quello di Diano Marina. Il sismologo Claudio Eva ricorda che il 70% della popolazione in Italia vive in zone a rischio. Mi illumino di meno, in Italia la giornata del risparmio energetico. Tante iniziative anche nel comprensorio risultano ancora troppo elevati i consumi degli edifici. Monsignor Lavagnino, Don Botto e Don Serra, tre sacerdoti uniti nella carità cristiana. Le loro vite raccontate in tre volumi curati da Francesco Baratta domani mattina la presentazione a Chiavari. Gli atleti delle società sportive di Rapallo e di Santa Margherita Ligure premiati dal Panatron Club nella festa dello sport 2017, incoraggiati a vivere gli autentici valori dello sport. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale saranno due gli impianti di depurazione delle acque nel Tiguglio orientale. La decisione già affrontata nel corso dell'ultima riunione dell'atto è stata ratificata questo pomeriggio dal Consiglio della città metropolitana di Genova. Di fatto è lo stop definitivo all'ipotesi dell'impianto unico comprensoriale previsto inizialmente nell'area della colmata a mare di Chiavari. I due depuratori di Vallata verranno realizzati uno nella zona del Lido, sempre a Chiavari, l'altro nell'area di Ramaia, a Sestri Levante. Vediamo. Alla fine è arrivato il via libera definitivo dalla città metropolitana di Genova ai due depuratori di Vallata per il Tiguglio orientale. All'unanimità, con il voto di tutti i 13 consiglieri presenti in aula, si è intrapresa con decisione la strada dei due impianti distinti per il comprensorio del Tiguglio orientale, uno a Chiavari e uno a Sestri Levante, facendo tramontare definitivamente l'ipotesi del depuratore unico comprensoriale alla colmata di Chiavari. Credo che la votazione di oggi ratifichi in modo formale un percorso che è già iniziato e che proseguirà celermente nei prossimi mesi, onde evitare di incorrere in sanzioni. La scelta dei due depuratori di Vallata, Ramaia per la Val Petronio a servizio di 70.000 abitanti equivalenti e Lido per la Valle dell'Entella a servizio di 140.000 abitanti equivalenti, eviterà la costruzione della condotta sottomarina di collegamento fra Sestri Levante e Chiavari prevista dal progetto precedente. La costruzione dei due impianti ridurrà anche l'estensione complessiva delle superfici necessarie per realizzarli e la loro entrata in funzione garantirà maggiore efficienza gestionale in rapporto alla popolazione servita, in caso di fermo di uno dei due depuratori. In occasione della votazione è stata ribadita la richiesta di tempi rapidi per le progettazioni di reti, gestore del ciclo idrico. I progetti preliminari che poi andranno discussi in sede di conferenza dei servizi, quindi con tutti i pareri che gli enti competenti dovranno esprimere su progettazioni così articolate. Credo che dopo che ci saranno le prime bozze progettuali sarà importante anche un passaggio sui territori. Nel Consiglio della città metropolitana è stato inoltre votato un emendamento del sindaco di Chiavari, Levaggi, che prevede che l'acqua utilizzata per la depurazione non venga riversata in mare, ma sia usata invece per altri scopi, dall'irrigazione ai servizi portuali. Il nuovo depuratore di Vallata di Chiavari sostituirà quello attualmente in funzione nella zona di Preli e che sarebbe entrato in sanzione comunitaria nel 2021. Per quanto riguarda Sestilevante invece verrà utilizzata l'area di Ramaia, dove il Comune chiede che vengano realizzate come opere accessorie anche delle strutture ludico-sportive. Impianti sportivi nell'area circostante, oltre che di rimettere in ordine l'area, di mettere a disposizione delle cortine con alberature, proprio in modo da ottenere un beneficio complessivo della sistemazione dell'area. Il tema del depuratore, la notizia comunque del voto favorevole del Consiglio metropolitano, è arrivata in Consiglio Comunale a Chiavari, al centro della seduta di questa sera. Ci colleghiamo in diretta con Alberto Viazzi, che si trova proprio nell'aula del Consiglio di Palazzo Bianco a Chiavari. E te Alberto. Bene, grazie. Mentre prendiamo la linea in diretta in corso di svolgimento, il Consiglio Comunale si è conclusa. Ho un'accesa discussione sulla proposta di realizzazione dell'impianto di depurazione di Vallata nell'area Lido. Abbiamo accanto a noi uno dei consiglieri di minoranza, Giorgio Getto Viarengo. Questa mozione è stata sollevata proprio dai gruppi di minoranza, perché? Perché noi abbiamo fatto una grande battaglia con i cittadini di Chiavari per scongiurare che fosse fatto questo grande mostro di un impianto di depurazione che prevedeva un tubo che partiva da Castiglione Chiavarese, attraversava il Golfo del Tiguglio dentro il mare e arrivava nell'area di Colmata. Una soluzione aberrante. Oggi si è trovata un'altra soluzione che è aberrante nello stesso modo. Nel senso che noi a Chiavari abbiamo un impianto di depurazione, abbiamo un impianto di depurazione che raccoglie le acque di Levi e di Zoagli, che poteva essere adeguato e se serve un'altra soluzione può essere assolutamente ricercata e trovata nel bene di tutto il nostro territorio. Il sacrificio della spiaggia, dei bagni Lido per ospitare il nuovo impianto di depurazione è assolutamente sbagliato. Questo parere è negativo all'area del Lido come sede del depuratore e vede le minoranze praticamente compatte. Abbiamo già sentito dalle parole di Giorgio Getto Villarengo quella che potrebbe essere la soluzione preferita da voi, quella dell'area Preli. Oggi in Consiglio metropolitano a Genova è stato votato all'unanimità questo progetto per l'impianto nell'area del Lido di Chiavari. Quindi qual è la sua sensazione? Comunque ormai si va in quella direzione? Cioè queste discussioni lasciano spazio a che cosa? Lasciano spazio a una deduzione tutta politica e se la vedranno i soggetti che parteciperanno alla campagna elettorale prossima. Se potesse decidere, se potesse come secondo me sarebbe giusto, chi governa questo territorio? Perché abbiamo una soluzione, la migliore possibile. È questione che per decidere è stato demandato alla città metropolitana e vota per noi il comune di Arenzano, capite? Ma la soluzione migliore possibile quindi quale sarebbe? La soluzione possibile, la migliore sarebbe un luogo baricentro al territorio nel quale noi dobbiamo dare il servizio e che non è la spiaggia dei bagni Lido. Grazie per ora a Giorgio Oggetto Vialengo per queste prime dichiarazioni rilasciate a botta calda dopo la discussione nell'aula della sala consigliare. Linea allo studio. Andiamo adesso a Sestri Levante. Ha aperto i battenti nell'ex convento dell'Annunziata. All'edizione 2017 di Discover Italy Meeting Suits and Europe, il primo evento di promozione turistica di portata nazionale nella riviera di Levante. Alla rassegna prendono parte 60 operatori nazionali che incontrano 35 operatori stranieri. Domanda internazionale e offerta turistica nazionale avranno modo di incontrarsi per portare ricadute positive sul territorio. Vediamo. Siamo riusciti a fare squadra e a portare qui nel Tiguglio un bellissimo evento che si sta svolgendo in questi giorni, presa terza oggi e domani, e che dovrebbe essere propedeutico a un'attività turistica dall'estero verso il Tiguglio notevole nei prossimi mesi. Che cosa sta avvenendo in queste ore all'ex convento dell'Annunziata? Oggi la giornata è dedicata agli operatori turistici, vuol dire gli operatori del territorio, non soltanto Ligure ma anche Ligure logicamente, ricettivo, tipicamente hotel italiani, incontrano operatori stranieri che mandano turisti in Italia. E questa è la giornata di oggi. Domani invece la giornata sarà dedicata al pubblico, quindi a chi volesse conoscere le strutture presenti oggi in sala, strutture ricettive, quindi hotel, all'opportunità di fare un salto e passare qualche ora con noi nella giornata di domani sabato. Che ricadute potenziali ci sono per il territorio da un evento di questo tipo? Le ricadute potenziali sono enormi. Stiamo parlando con una quarantina di tour operator di altissimo livello stranieri, stranieri vuol dire provenienti dal territorio soprattutto svizzero, tedesco, francese, inglese, in grado di muoveri notevoli volumi di turisti e quindi l'indotto che potrebbe generare questa attività è molto forte. Che potenzialità ha questo territorio da esprimere ancora e su cosa occorre puntare, soprattutto pensando agli operatori sul territorio? Indubbiamente qua ci sono dei picchi di stagione fortissimi dove probabilmente spazio ce n'è poco di miglioramento, ma c'è tanto miglioramento sulle stagioni cosiddette di spalla o le basse stagioni dove invece spazio ce n'è. Quindi io credo che si debba lavorare molto su quello e molto sulla gestione dell'alta stagione quando forse c'è fin troppa gente e c'è il rischio poi di essere controproducente questa troppa gente. E sono in aumento le giornate di produzione di film, fiction, programmi tv, spot, commerciali e documentari nel Levante. Un buon 2016 se si guarda alla Liguria in generale è allo stesso Tiguglio, nello specifico come set per produzioni audiovisive. Nel corso dell'anno passato la collaborazione con la Genova Liguria Film Commission ha portato nel nostro comprensorio diverse produzioni sia italiane che straniere. Sei tra spot televisivi, documentari e clip musicali che hanno realizzato riprese e video coinvolgendo un po' tutto il territorio del Levante. Tra le città di riferimento di questa attività c'è quella di Rapallo, sostenitrice della Film Commission dal 2015. Proprio qui all'ospedale Nostra Signora di Montallegro, una produzione cinese che necessitava di stanze di ospedale ha girato delle riprese per una fiction ambientata in parte a Genova. E si è svolta questa mattina a Torino la cerimonia di consegna del premio Persona e Comunità assegnato ogni anno dal Centro Studi Cultura e Società. Nella sezione Cultura, Socialità e Tempo Libero per il benessere della comunità un riconoscimento è stato consegnato al Comune di Sestri Levante per il progetto Noi andiamo al mare, la realizzazione cioè di una spiaggia accessibile a tutti, anche a persone con disabilità fisica. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina. Il premio è stato ritirato tra gli altri dall'assessore Lucia Pinasco insieme ai rappresentanti delle associazioni del Tiguglio. E vediamo proprio le foto. MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato del mondo, la Regione Liguria, il Comune di Lavagna e l'Accademia Italiana Marina Mercantile hanno presentato oggi la prima fase di un progetto innovativo di formazione con particolare riferimento al settore marittimo. Nell'ambito di questa collaborazione la Regione finanzierà con un investimento di 600 mila euro due nuovi percorsi biennale di istruzione tecnica superiore organizzati dall'Accademia Italiana Marina Mercantile per la formazione dei futuri middle manager hotel di bordo e per la prima volta dei multimedia technician di MSC Crociere. La società garantirà l'assunzione del 70% di coloro i quali avranno superato l'esame finale previsto dai corsi che si svolgeranno negli spazi di Villa Spino Lagrimaldi a Lavagna messi a disposizione dal Comune. Le iscrizioni ai corsi si sono aperte oggi, avranno una durata di due anni e si comporranno di 1800 ore suddivise in 1100 ore di teoria pratica e 700 ore di stage per un totale di 44 allievi iscritti. Esattamente sei mesi fa ha avuto inizio il terremoto in Italia centrale che ha distrutto molti paesi provocando la morte di quasi 300 persone. Un anniversario più lontano riguarda invece la storia sismica della Liguria e il terremoto di Diano Marina avvenuto il 23 febbraio del 1887. Abbiamo fatto il punto parlando con il sismologo Claudio Eva. Sentiamo. 130 anni fa avvenne il devastante terremoto di Diano Marina che si può considerare nella storia della Liguria il peggiore? Sì, indubbiamente può essere considerato uno dei peggiori terremoti che possono aver colpito la Liguria che fu almeno valutato come magnitudo pari al massimo dei terremoti che si sono verificati recentemente in centro Italia cioè magnitudo 6,5. Questo terremoto devastò completamente, oltre che Diano Marina tutta la fascia dell'Imperiese e abbiamo ancora un ricordo a perenne memoria di questo evento determinato dal paese di Bussana Vecchia che è rimasto integralmente intatto con tutte le rovine del terremoto dell'epoca. Quindi rappresenta un monumento, diremmo così, alla disperazione e a ciò che avvenne in quel periodo. La potenzialità che questi eventi si possano ripetere esiste, ahimè, come abbiamo visto nell'ambito di quello che è successo recentemente nell'Italia centrale, in cui terremoti che sono equiscenti da 300 anni si sono improvvisamente riattivate. Ma possiamo considerare il terremoto di Diano Marina come un evento eccezionale oppure la Liguria si può considerare terra sismica? La Liguria è considerata terra sismica anche perché è stata classificata come tale dalla legge ancora del 1984. Questo comporta essenzialmente che per questi territori si dovrebbero avere delle condizioni di esecuzione degli edifici nuovi, in particolare con regole antisismiche. Cosa che in Liguria non è ancora stato fatto? Ma direi che non è stato fatto in nessuna parte d'Italia. Abbiamo l'esempio fondamentale di quello che sta succedendo nel centro Italia in cui di fatto sono crollati e sono rasi al suolo completamente interi comuni pur considerati sismici dal 1930 ed erano considerati sismici di prima categoria. Le scuole non erano mai state messe a norma. Pensiamo che circa il 70% della popolazione italiana vive in territori a rischio sismico. Il 44% in zone a rischio, ad altissimo rischio sismico. A Genova si è insediato il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini. Il 56enne, laureato in architettura e ingegneria, è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 5 dicembre del 1990. Da allora ha ricoperto diversi incarichi, l'ultimo come comandante provinciale a Bergamo. La cronaca in serata ai Carabinieri di Camogli, passando nel comune di Recco, in prossimità della chiesa di Nostra Signora del Suffraggio, notavano alcune persone che cercavano di nascondersi dietro una fioriera. A quel punto i Carabinieri hanno raggiunto i tre uomini, chiedendo loro di esibire documenti di identità. Intanto i tre hanno tentato di nascondere una cacciavite della lunghezza di 32 cm e un paio di guanti di colore nero da manovale. Sopra una fioriera vi erano uno zaino di colore verde. I tre soggetti risultavano già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Uno di questi, inoltre, era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Genova. Per furto aggravato in abitazione. All'interno dello zaino i militari hanno trovato materiale rubato. Due telefoni cellulari, un paio di scarpe di marca, due orologi, un giubbotto invernale, vari profumi di marca, un portagioielli con 60 euro e 6 franchi svizzeri. I tre sono stati portati in caserma per accertamenti. Le vittime dei furti rintracciate hanno riconosciuto i beni che erano stati sottratti loro pochissime ore prima. La restante refurtiva è stata sottoposta a sequestro in attesa che il legittimo proprietario la reclami. Mi illumino di meno. È la giornata del risparmio energetico che presto dovrebbe diventare giornata nazionale grazie ad un disegno di legge presentato alla Camera. Oggi, in molte città italiane, ma anche del nostro territorio, da Rapallo a Sori fino alla Valdaveto, le luci degli edifici pubblici sono state spente per ricordare a tutti che bastano pochi gesti e un po' di buona volontà per ridurre i consumi che pesano sulla bolletta, ma anche sull'ambiente. Vediamo. La festa del risparmio energetico, mi illumino di meno, torna anche quest'anno con il suo bagaglio di iniziative stimolate negli ultimi 13 anni dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar, tese a ridurre i consumi di energia elettrica, carburante, riscaldamento e così via. Quando abbiamo iniziato, 13 anni fa, mi ricordo distintamente, c'erano in Italia tre persone soltanto che avevano sul tetto di casa un pannello fotovoltaico, uno strano apparecchio per produrre energia. Adesso, sono passati 13 anni, ma è passato un secolo, ci sono decine di migliaia di italiani che alla sera tornano a casa e prima di salutare la famiglia e di abbracciare il cane vanno a vedere quanto ha prodotto in kilowatt l'impianto fotovoltaico. Vuol dire che siamo cambiati molto nel nostro rapporto con l'energia, per fortuna è cresciuta un po' la sensibilità su questi temi. La questione è seria perché le cifre ufficiali dicono che in Italia 5 milioni e mezzo di edifici sono stati costruiti fra il 1950 ed il 1980, un fardello pesante dal punto di vista dei consumi ma anche per il rischio sismico. Abbiamo una situazione di fortissima esposizione di fabbricati cosiddetti energivori, ovvero fabbricati che hanno consumi altissimi di energia. Questa situazione fa sì che questo patrimonio edilizio corrisponda più o meno al 70% del nostro patrimonio edilizio nazionale. Questi fabbricati, per dare un'idea, un numero, proprio per avere la percezione di ciò che stiamo parlando, hanno consumi che sono oltre le 10 volte rispetto alle case che siamo nelle condizioni di abitare, di costruire e di vivere attualmente. Le statistiche, sebbene spesso seppellite sotto una coltre di polemiche, dicono che l'Italia in realtà si sta muovendo di più e meglio rispetto agli altri paesi europei per ridurre questa dispersione. Nella nostra regione lo scorso anno è nato l'Istituto Clima Liguria, che segue da vicino l'esperienza pilota del Trentino e studia come intervenire per migliorare la qualità degli edifici ed il loro comfort interno. Dobbiamo assolutamente ridurre il consumo di energia in casa, quindi se si fa un bel involucro, che sia estivo, che sia anvernale, che abbia un bello sfasamento, il sfasamento è quel tempo dove si riesce a trattenere sia il freddo che il caldo. Quindi bisogna lavorare sull'edificio. Voltiamo pagina. La festa della pace dell'azione cattolica ragazzi di Genova è stata vivace e colorata. Circa 800 fanciulli provenienti da 34 parrocchie di Genova hanno attraversato gioiosamente Piazza dei Ferrari e hanno raggiunto la cattedrale di San Lorenzo. Sul sagrato hanno incontrato il cardinale Angelo Bagnasco, il servizio della redazione del Cittadino. 800 ragazzi provenienti da 34 parrocchie della Diocesi hanno sfilato in marcia con i propri genitori per dire che costruire la pace è possibile. Al mattino spazio ai lavori che hanno coinvolto i bambini e i ragazzi da un lato. E il gruppo dei genitori partecipanti dall'altro. Dopo il pranzo la marcia gioiosa attraverso Piazza dei Ferrari fino al sagrato di San Lorenzo, dove tutti i partecipanti hanno incontrato il cardinale Bagnasco. La CR e la parrocchia sono come il focolare dove si vive. Sono la nostra famiglia, ha detto l'arcivescovo ai tantissimi bambini e ragazzi presenti. La nostra famiglia che ci accoglie e ci sostiene merita il nostro massimo impegno e la nostra partecipazione attiva, ha detto il cardinale Bagnasco. La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata da Monsignor Nicolò Anselmi nella Chiesa delle Vigne. La pace, ha detto Monsignor Nicolò, nasce dal nostro animo. Per essere pacificati lasciamo entrare Gesù nei nostri cuori. Abbiamo affrontato quattro tematiche, identità, legame, appartenenza, libertà e identità. Momenti importanti, soprattutto legati da un filone, che è quello di costruire la pace e riconoscere nella Chiesa anche la nostra casa. Tanto è vero che appunto lo slogan di quest'anno della pace era proprio la Chiesa e la mia casa. I ragazzi hanno costantemente tanti stimoli, stimoli alle volte che possono essere negativi, però momenti come questi, momenti appunto di comunione, momenti di festa, sicuramente fanno capire quanto sia importante la pace, quanto sia importante costruire dei legami che siano solidi ma che siano anche fondati su questa dimensione verticale che ci lega appunto al Signore, che ci lega appunto a Dio. La storia è la vita di tre sacerdoti, tre figure storiche della Diocesi di Chiavari, ovvero Monsignor Luigi Lavagnino, Don Marcello Botto e Don Luciano Serra, accomunati nella misericordia, nella carità cristiana. Le ha raccontate in altri tanti volumi Francesco Baratta. I volumi verranno presentati domani mattina alle 10.15 nella sala Ghioschiffini della Società Economica di Chiavari. Vediamo un'anticipazione. I protagonisti della trilogia di Francesco Baratta sono Monsignor Luigi Lavagnino, Don Luciano Serra e Don Marcello Botto, tre sacerdoti che grazie alle loro azioni e ai loro gesti hanno contribuito alla diffusione del messaggio evangelico nel Levante Ligure. Nel libro Sciupre vostro, Monsignor Luigi Lavagnino, un secolo da pastore, è raccontata la vita di Don Luigi Lavagnino, sacerdote che per 68 anni ha animato la parrocchia di Castello di Carro. Nelle pagine dedicate alla vita di Monsignor Lavagnino, il lettore riesce a cogliere una sintesi serena e lineare della persona e dell'opera di questo pastore, grazie al racconto di episodi caratteristici della sua vita. Nel libro Il protagonista, silenzioso, la vocazione di Don Luciano Serra, è raccontata la storia di Don Luciano, persona di grande umanità e concretezza, ricca di idee, decise e volitiva, capace di realizzare tutto ciò che si proponeva. La lettura di alcuni suoi scritti e testimonianze inedite di tante persone che lo hanno conosciuto, frequentate ed ascoltato, fanno apparire Don Luciano luminoso per una terza bellezza e con un nutrito spessore della sua vocazione sacerdotale. Nel libro Don Marcello Botto, un parroco e la sua chiesa, è raccontata la vita di Don Marcello, personaggio schivo, discreto, piuttosto nascosto, lontano dai riflettori e da qualsiasi ribalta. Don Marcello aveva quel cuore che era capace di raccogliere la perenne novità del Vangelo, il perenne stile del buon pastore. È stato un uomo che ha vissuto la spiritualità della croce, non soltanto nella sua sofferenza, ma nel suo darsi. L'associazione Laudato Si, presieduta a livello nazionale da Salvatore Martinez, ha ideato e realizzato il progetto Labora mille giovani, una iniziativa destinata ai giovani tra i 25 e i 35 anni, laureati o specializzanti, che desiderano approfondire la loro vocazione ad una nuova rappresentanza sociale orientata al bene comune. Anche nella nostra diocesi sarà presentato il progetto domani pomeriggio alle 15 nei locali dell'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. A questo appuntamento seguirà un vero e proprio corso di formazione che si terrà sempre a Sestri Levante dal 22 al 26 marzo. Nella nostra scheda adesso gli appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per sabato 25 febbraio. Termina la mostra Migranti, la sfida dell'incontro, allestita all'Oratorio dei Bianchi in Vico della Rosa a Rapallo. L'esposizione è visitabile la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Prima giornata per il mercatino dei sapori e delle tradizioni che si tiene in via Rivarola a Chiavari dalle 10 alle 20. L'iniziativa porta in città i sapori delle tradizioni enogastronomiche italiane. Proseguono gli eventi per celebrare la giornata internazionale della guida turistica. È organizzata una visita al centro cittadino di Savona alla scoperta dei suoi tesori Liberty. Appuntamento in piazza Sisto IV alle 15. In occasione della visita saranno raccolte e offerte libere da destinare al progetto un assegno per gli orfani di Amatrice. Sempre alle 15 ma a Sestri Levante del campo sportivo di San Bartolomeo della Ginestra giochi a squadre e rottura di tre pentolacce. In caso di maltempo la festa si svolgerà all'interno del cinema parrocchiale. Gioco e divertimento per carnevale è organizzato dal comitato di quartiere di San Pier di Canne a partire dalle 15 nel campo di calcio l'agricola di Chiavari. Carnevale anche a Santa Margherita Ligure in piazza San Siro alle 15.30. Ci sarà la rottura della pentolaccia a cura del comitato quartiere di San Siro. Alle 16.30 nella sede di Villa Queirolo a Rapallo l'Accademia Culturale ospita una conferenza dedicata al complesso degli oratori e degli antichi ospedali di Rapallo. Con la lezione dell'architetto Alessandra Rota che descriverà l'evoluzione del sistema di accoglienza e di sostegno ai bisognosi. Proseguono gli appuntamenti di Uomini e Navi, la rassegna dedicata alla cultura del mare promossa dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna nella sua sede al porto turistico di Chiavari. Protagonisti alle 17 saranno Hernani Andreatta ed Enrico Paini con la conferenza Il Gozzo di Chiavari e gli 80 anni del Palio Marinaro del Tiguglio. Grande musica al Circolo Arci di Santa Margherita Rigore che alle 20.30 ospiterà il concerto jazz delle Michela Lombardi Quartet. Sempre alle 20.30 al Teatro Sociale di Camoglia andrà in scena Le Prenome, Cena tra Amici, spettacolo di Matteo della Porta, Alexandre Patelier, regia di Antonio Zavatteri. Avrà inizio alle 20.45 invece al Teatro Fabrizio De Andrè di Borzonasca Love Musical Show Live, un medley teatrale in cui saranno proposti i brani celibili della musica Mamma Mia, Chicago, Jesus Christ Superstar, Pinocchio, Air, Notre Dame de Paris e Rocky Horror Picchu Show. Lo spettacolo musicale organizzato dal Comune in collaborazione con l'Accademia di Canto Moderno e Il Mio Canto Libero e a ingresso libero e ricavato sarà devoluto all'Istituto Giannina Gaslini. Alle 21.00 per la rassegna Rapalcoscenico andrà in scena nel Teatro delle Clarisse Rapallo la prima nazionale per il Momento Grazie, show che avrà come protagonista il comico Andrea Bottesini accompagnato al pianoforte da Francesco Barbagerata. Infine alle 21.30 il cantante Gioacchino Costa si esibirà nel teatrino di San Nicola a Camogli e presenterà il suo album Sottopelle Sottoterra. Un uomo di 58 anni pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri a Seste Levante per detenzione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti. A seguito di accertamenti è stato trovato in possesso di un flacone di metadone che lo stesso aveva rubato a bordo di un treno ad un 22enne genovese che ne aveva denunciato il furto. Nel corso della perquisizione e all'abitazione dell'uomo i militari dell'arma hanno trovato e sequestrato anche dell'Ascish. A Rapallo adesso il Panathlon Club ha premiato decine di atleti che si sono distinti nelle varie discipline sportive sul palco, le società di Rapallo e Santa Margherita Ligure per una festa dello sport. Vediamo. Nella festa dello sport 2017 del Panathlon Club di Rapallo sfilata di giovani e meno giovani atleti sul palco del Teatro delle Clarisse. A ricevere la medaglia i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto risultati importanti nelle varie discipline, dalla vela al nuoto, dalla ginnastica al pattinaggio, dalla box tailandese alla danza, dalla pallavolo al motociclismo. Sfilata di sportivi per un messaggio universale, quello cioè dell'etica e del valore educativo dello sport. La nostra funzione è quella di sollecitare in qualche modo e mettere in evidenza tutte le varie attività che si svolgono nel territorio del club. E soprattutto cercare di stimolare i giovani, stimolare coloro che hanno in mano il futuro di questi giovani, a finalizzare lo sport anche a un fair play, anche a un senso dell'amicizia, anche a un rispetto che poi deve accompagnarli per tutta la vita. Nel corso della premiazione il sindaco Carlo Bagnasco ha annunciato che, sblocco dei fondi permettendo da parte del governo centrale, nel 2017 sarà avviato l'iter per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport cittadino. Il nostro obiettivo è nel 2017 la progettazione per poi iniziare magari i lavori o fare gli stanziamenti economici che serviranno appunto per iniziare questo importante cantiere a Rapallo, nella zona del Poggiolino, un palazzetto dello sport che rappresenterebbe tanto per la nostra città, un pochino un fiore all'occhiello e soprattutto un'esigenza perché ricordo che Rapallo è veramente una città completa dal punto di vista sportivo. Quello che manca è proprio un palazzetto dello sport. Ospite d'onore è l'ex pallavolista Zurra Ornella Marchese, oggi responsabile della scuola di pallavolo di Carasco che ha portato nel Tiguglio la Sitting Volley, la pallavolo per persone con disabilità fisiche che con la sua attività promuove lo sport come momento di divertimento e di condivisione. Quando un po' di anni fa ormai abbiamo fondato questa società abbiamo appeso al palazzetto di Carasco uno striscione con le tre frasi che sono le tre frasi che portano avanti alla base del nostro progetto che sono incontrare amici, giocare a pallavolo e aiutare gli altri. Dopo la parentesi dedicata alla seconda fase di Coppa Italia riparte il campionato di A1 femminile di pallanuoto, seconda giornata di ritorno a pallo che vola in Sicilia, ospite del Messina, seconda forza del campionato giallo-blu galvanizzata dalla bella prestazione in Coppa, coronata con la qualificazione alle Final Six. Pensano però al campionato e a risalire la classifica per conquistare il secondo e principale obiettivo di stagione ovvero le finali di Scudetto. Si gioca alle 15. E dobbiamo tornare a far punti in casa, così l'allenatore della Virtus Entella, Roberto Breda, suona la carica in vista della partita casalinga di domani contro il Carpi. Per i biancocelesi si pronuncia una sfida impegnativa, calcio d'inizio anche in questo caso alle 15. Vediamo il servizio. Una squadra che concede poco spazio e ha dei meccanismi ben oliati perché giocano assieme da tanto tempo. Noi in ogni caso vogliamo far bene, vogliamo ritornare in casa a far punti, rimantenere anche l'equilibrio che abbiamo avuto a Perugia, però aumentando l'efficacia e la pericolosia. Carpi Entella sarà anche Beretta contro Catellani, due giocatori che per motivi diversi hanno trovato poco spazio e avranno grande voglia di rivalsa in questo giro di ritorno. Eh sì, sono due giocatori che credo aspettino questa partita con tanta voglia e che sperano anche di determinare. Noi speriamo che sia Andrea Catellani ad essere ancora più bravo, però a di là di questo anche Beretta qua si è comportato molto bene, l'atteggiamento è stato giusto. Sabato scorso ho fatto un'ottima partita, quindi l'augurio è che abbia un buon girono di ritorno. Poi dopo a di là di quello ci sono due squadre, due squadre che di classifica non sono tanto lontane e quindi certamente la partita sarà molto equilibrata e noi dobbiamo essere bravi a fare la partita giusta. Per quanto riguarda i miei compagni, ovviamente con la maggior parte è rimasto un bel rapporto di amicizia, ci sentiamo spesso e quindi sarà bello giocarsi contro, però nel momento in cui l'arbitro dirà il fischio d'inizio credo che per me saranno solamente avversari, poi quando finirà la partita ci abbraccieremo e tutto sarà come prima, però sono molto determinato e sono certo che faremo una grande partita. Weekend sportivo a Santa Margherita Ligure, la città ospita infatti la tappa finale della competizione ciclistica Enduro Winter Trophy che per l'occasione alessirà un village in banchina Sant'Erasmo. La domenica di gare si svolgerà sui sentieri del parco di Portofino, al termine si assegneranno sia i titoli di vincitori della tappa che del circuito. E con lo sport si conclude questa edizione di Teguli Oggi, l'informazione ritorna domani 12.45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate come di consueto sul nostro sito internet teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.